a ragazzi buongiorno e bentornati sui miei canali mi avete chiesto oggi perché non riesco a sollevarmi perché non riesco a fare una trazione allora qua la risposta potrebbe essere ci potrebbero essere più risposte ma principalmente non riuscite a fare la trazione per carenza di forza in tutta quei sistemi muscolari che devono intervenire per sollevarvi alla sbarra generalmente non si riesce a sollevare alla sbarra chi è fuori forma chi ha un peso troppo elevato perché ovviamente deve sollevare più chili e magari i suoi muscoli non ce la fanno o persone che hanno delle problematiche articolari allora se avete problematiche articolari il consiglio è quello di risolvere le problematiche articolari con gli specialisti di turno e poi allenarvi per fare le trazioni qualora siete fuori forma fisica ovviamente il consiglio è quello di allenarvi per potenziare i muscoli che intervengono le trazioni quindi tutti i muscoli della tirata che sono i muscoli della schiena i muscoli che flettono il gomito e perché no ovviamente non allenerete solo i muscoli da tirata ma anche quelli di spinta perché considerate sempre che è vero che non riuscite a fare le trazioni ma non potete poi sbilanciare tutto il sistema solo i muscoli di tirata e non allenare i muscoli di spinta quindi dovete sempre allenarvi in maniera equilibrata se invece il cane non riuscite a sollevarvi perché avete un peso troppo elevato ovviamente dovete mettervi a dieta nel mentre allenarvi e io sono sicuro che scenderanno i chili scenderà il grasso e per magia anche voi vi solleverete alla sbarra queste un po le tre situazioni che si potrebbero creare per chi non riesce a eseguire le trazioni alla sbarra se avete dei suggerimenti mettetele pure qua sotto nei commenti se volete imparare a fare le trazione alla sbarra vi ricordo sempre che ho creato un corso dedicato esclusivamente per imparare a fare trazione alla sbarra per soggetti che non sono capaci tutto fatto in video workout quindi ci alleniamo insieme io sono il vostro coach vi guiderò a fare la vostra prima trazione dai sotto con l'allenamento e continuate a seguirmi ciao ma che cosa stai aspettando sei ancora qua dai vieni sul mio sito umberto miletto punto com ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento alimentazione nei programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare dai corri subito